Io e Gaetano Salvemini abbiamo tre cose in comune, la prima è il cognome Salvemini, la seconda è la città di provenienza Molfetta e la terza è l'anno di nascita 73, solo che io sono del 1973 e lui è nato 100 anni prima di me. Ma non sono queste tre caratteristiche ad avermi fatto appassionare alla figura di Gaetano Salvemini che io stimo principalmente come uomo politico, come uomo del sud che tanto si è speso per risolvere la cosiddetta questione meridionale spingendo per le riforme più giuste o per il suffragio universale, ma stimo Gaetano Salvemini anche come uomo, come uomo messo alla prova dalla vita, come uomo che ha perso ad un colpo tutta la famiglia durante un terremoto, come uomo costretto a subire un processo, ad essere arrestato, a vivere in esilio per le sue idee antifasciste. Un uomo che ha fatto della politica una materia appassionante, che ha vissuto la politica con passione, un uomo di quelli che avrei voluto vedere oggi nel contesto attuale ma che fatico sinceramente a trovare. Di Gaetano Salvemini vi leggo una porzione, un estratto dai ricordi di un fuoriuscito che dice L'assassinio di Matteotti mi diede uno scossone. Mi dissi che era mio dovere non rendermi complice con la mia inerzia di un regime infame. Anche ad essere solo dovevo dire un no risoluto e pubblico a quel regime. Fa quel che devi, avvenga quel che può, non mollare. Grazie a tutti.